Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese 20 ragazzi più belli del Giappone, lasciate un mi piace, mi raccomando ascoltatevi la mia musica su Spotify Presentazioni Ilaria, Ilaria Io sono Naccio, disegna porno Ehm, scusami, perdonami, però questi dettagli, questi dettagli preferirei non saperli, comunque Pica di su Partiamo Icutatoma 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 Per me 10 Per me Su Cuoco è bella annata l'84 9 Non do proprio i numeri, dico lo bombo e basta Sì, poi sì Koji Seto Per me no No No, ma chi è? Next Mamma mia, Mizushimairo, cioè scusate, per me è un 10 plus Per me è 10 L'annata dell'84 È la migliore È la migliore Oh, benere, santissima, chi è questo? Questo Sì, cioè questo È... Sì, ma tutti te li fai, scusa, non ho capito Tutti Li voglio bene perché sono una grande fan dei news Sì Però per me è un... Per me è un me Per me è un 10 plus plus Lui Mokumichi Hayami Lui è il protagonista di Zeta Ikareshi Ma stava così bene Zeta Ikareshi che gli è successo? Eh, beh Quattro hanno preso una foto a cazzo, vada Che cosa ti devo dire? Comunque lui, no, è bellissimo Ma anche lui dell'84 Vedi, l'84 è una delle annate migliori Ma solo lui sembra più vecchio di tutti gli altri Per qualche motivo Vabbè, ma questa foto non rende giustizia È bellissimo 12 Ah, lui è della Stardust Ma scusate Ryosuke Yamada Ma per favore Per me è sempre bimbo Oddio, per me è sempre un me Per me è sempre un me Lui è il visual degli AC Jump Ha fatto Edward Eric nel live action Nel live action di Fullmetal Alchemist Ah, davvero? Non c'è solo? Sì, sì, è lui Ok Per me è sempre bimbo Perché io l'ho visto debuttare negli AC Jump Quindi per me avrà per sempre 13 anni Ah però, chi è lui? Masaki Okada Ma è Alf lui? No Osamo Mukai No Non mi piace Non è anche a me, ma chi è? È uno degli aspetti No, non credo che sia nessuna band è questo Però è che è famoso perché ha fatto Comunque ha fatto un sacco di film di dramma È proprio l'immagine Daikyosha dell'erbivoro Diciamo come immaginario L'erbivoro effettivamente Perché ogni volta che cercavo immagini ragazzo erbivoro mi usciva la sua faccia Cerchiatemi questa cosa del ragazzo erbivoro Ho fatto il video in cui dicevo comunque i 20 tipi di ragazzi Sai ci sono gli erbivori, i carnivori, gli onnivori, i ragazzi tofu, i ragazzi... No ma lo devo vedere questa qui È bellissimo sono in due contatte Ci sono anche i ragazzi tiramisù Sì, sì, sì È un 7 7.5 Ha fatto gli attamen Mi è piaciuto un sacco, mi piaceva ridere un sacco Chi? Oddio ricordo un mio amico, c'è un mio amico uguale Nishi Ah è quello degli altri Sì 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 ho capito chi è Oddio ma io l'ho incontrato anche questo E quello qua è il main Ecco perchè l'avevo già vista il main No 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 Sì no io ho incontrato all'usente Gesù ecco dove l'avevo visto Era in coppia con Wentz sempre Io l'ho incontrato anche lui tra l'altro Tepeikoi Ma un bing Adesso no adesso no non è così giovane Per me no poi Ah Takuya Kimura Solo all'usano posto Degli smapp Degli smapp Smazzavo del sette amore Lui è considerato Ma oddio ma non ricorda un po' Limino Vagamente Sarà la capigliatura Che comunque Comunque devo dire che lui è un gran bell'uomo E lui è il padre di Koki Oddio È uguale al padre è identica Siamo a mettere un attimo pausa Che è nulla diatissima questa persona Ma non lo lasciamo Moshi Moshi A few minutes later Taki No Taki Taki No No Ok ragazzi È un ragazzo Confermo Aspetta posso lettare lo schermo Allora Cosa ha fatto? No 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 Ma sono con John Oh Il giorno è nazionale Il giorno è nazionale Non è nazionale Cosa puoi dire? Beh però l'ho visto ieri Si ma è invecchiato Si è decisamente invecchiato Vabbè io diciamo che Non l'ho buttato comunque No infatti Tanto carino Kenichi Matsuyama No 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 Scrivi Vabbè sta di fatto che Bombo Comunque Yamasta Yamastato Moisa Yamapi È un 11 Jinna Jinna kanishi Jinna kanishi È bello È bello 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 No senza dubbio Ma non l'avrei messo al primo posto E se avete ancora dubbio è bellissimo Bello 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 Bellissimo La morale è che Se sono giapponesi Se sono giapponesi A Ilaria piacciono tutti Ma non è vero Volete dire qualcosa alla fine? Due volte è morto nella nasa Buona colazione Mi sto veramente innamorando del Pinatsubata Il burro d'arachidi In giappone si chiama Pinatsubata Vivere in quarantena con a caso Significa che ogni giorno Devo cercare di parlare piano Ragazzi Perchè Sebastiano Scaffini È Rumorosissimo Ciao ragazzi Benvenuti A fine del mio video Saluta Purin Io sono allergico ai gatti Quindi non è che posso dire molto Che non lo posso toccare Però c'ho una bellissima notizia Perchè oggi Sono riuscito a comprare 50 masche Il che mi ha reso molto felice Ma Adesso Vi voglio far vedere Come si festeggia la Pasqua in Giappone Carbonara Carbonara Uh Se le tocchiamo crescono No Mi metto io Sicuro E ce l'avete anche l'uovo di Pasqua? No Di là Purtroppo Di qualcosa per Pasqua Ma proprio io Eh non lo so Buona Pasqua Campai Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Sono sborrata addosso Che schifo C'è un panno Bisogni vero Fata Esiste una città che si Si ammazza così poca panna te sei messa Non ci crede nessuno E il resto mi è finita addosso Cioè non ti dico dove Ma davvero? Si Fata In mezzo alle costa Ma è finita la panna È la finita Davvero? C'è c'è C'è? Vuoi la panna? No grazie C'è una città che si chiama Monopoli in Italia Buona Pasqua Allora non abbiamo le uova Ma abbiamo le cioccolatine di Bulgari Vuoi salutare? Ciao Sì 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 Lui è... C'è il caffuncio Federica Federica Kanpai Kanpai Posso? Vi presento anche Yuma Lui c'è un gruppo idol Magari forse gli scrive una canzone Lo scopriremo più avanti Comunque questa non è acqua eh Questa è Nihonshu eh Specifichiamo ma la sera si beve acqua Questo sarebbe polipo alla Genovese Genovenese Genovese Rosciutto crudo E' arrivato un altro sake per me Poi a sera lo portiamo in braccio a casa No non mi portate in braccio a casa E' la mia grande E' la mia grande La mia grande Tante Lui! Lui! Allora una risposta Non scopriare Questa accontrata Poi che ci spazano Oh.. 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 Grazie a tutti